Suspiria di Teleacento è un film uscito nel 1977 ispirato dal romanzo Suspiria del Profuntis di Thomas De Quincy ed è interpretato da Jessica Harper che fa la parte della protagonista. Ciò che riguarda la recitazione degli attori è davvero molto buona. Gli attori se la sono saputa cavare nella recitazione comprensiva del film. Jessica Harper nel ruolo del protagonista l'ho trovata sempre azzeccata ed è molto femminile nel suo ruolo. Non saprei veramente metterci un'altra attrice a posto suo. Per ciò che riguarda la recitazione e l'economia sonora sono di piacevolissima fattura. Semplicemente perché se consideriamo il fatto che i colori che sono molto forti e molto acceganti tra virgolette è molto, non posso dire, tra quella forte inquietitudine nel quartiere film, soprattutto perché sento nel film si vedono diversi omicidi uno dietro l'altro. I colori contribuiscono a far mettere paura lo spettatore e sinceramente le colonne sonore contribuiscono a questa inquietitudine, a questa paura che poi i coplin nelle colonne sonore che fanno sono davvero bravissimi ma veramente bravissimi che hanno creato delle opere tarta a livello musicale ma veramente bravissimi i coplin di fare musica per ciò che riguarda la trama di per sé ovvero ciò che accade nel film è davvero interessante vedere come queste streghe vivono nel loro mondo anche se comunque il Suspiria di Luca Guadagnino viene visto molto meglio rispetto a quello di Suspiria di Tarriacento però quello che riguarda Suspiria di Tarriacento a livello di trama è davvero un'opera d'arte anche se forse non è in termini ad alto però è quello che più si avvicina perché a livello di trama secondo me è una delle migliori soprattutto da tre oci e tre mali dai accento perché il secondo film Inferno a livello di trama mi è sì piaciuta però non mi ha fatto impazzire moltissimo soprattutto nelle ultime scene del film Inferno non è che mi abbiamo fatto impazzire ora per quello che mi riguarda il film Suspiria di Tarriacento è uno dei miei film che ci sono di genere horror e te e te il film forse tra i più belli nella storia del cinema includendo ovviamente il Suspiria di Luca Guadagnino e secondo me questi due film di Suspiria sono tra i migliori che ci sono in assurdo di film horror e qui penso di aver detto tutto e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao